Siamo alla 33esima Assemblea Nazionale del Lanci, nello stand dell'Agenzia del De Magno, mai come quest'anno frequentato dai sindaci presenti qui. Abbiamo un progetto importante che i sindaci devono condividere con noi, o possono condividere con noi, quello del federalismo demagnale, cioè il trasferimento gratuito di beni dallo Stato ai comuni in proprietà a fronte di progetti di valorizzazione. La scadenza è il 31 dicembre di quest'anno, quindi invito tutti i sindaci che ancora non l'hanno fatto a richiedere i beni a cui sono interessati, perché insieme all'Agenzia del De Magno proveremo a definire un progetto di valorizzazione.